arma folzer va in su e in giù per la sua lunga e stretta stanza parlando da mezz'ora ernst bang disteso sul vecchio sofà lo osserva a volte alza un poco il capo come per guardare sopra le parole dell'altro perché queste non lo interessano molto il biondo e robusto giovanotto che corre avanti e indietro come se salisse lungo una collina gli sembra evidente molto più importante quanto volentieri gli griderebbe rimani un istante fermo perché possa vedere meglio il tuo mento e la tua bocca naturalmente non lo grida tuttavia arma holzer si ferma e raccogliendosi davanti alla stretta finestra copre con le sue nere spalle il cielo e i camini e l'intero pomeriggio domenicale la stanza si abbuia dietro di lui ed egli dice al diavolo la laurea sono già abbastanza nervoso credo comincio a farvi concorrenza caro bang state attenti se io divento nervoso lo faccio sul serio come faccio tutto allora sarete dei nani vicino a me e si volta con tanta rapidità e con il suo sorriso trascina tutto un pezzo di luce dentro la soffitta fumosa bang si dritta a sedere come spaventato è un giovane esile vestito alla moda ora osserva a lungo la sua mano sinistra poi la destra con tanta cura quasi fosse un incontro dopo anni holzer riprende ad andare in su e in giù oggi deve anche venire la risposta sia probabilità di avere lezioni private presso gli holmes da questo dipende molto senza questo sussidio non posso pensare a sposare bang fa un movimento holzer si volta verso di lui in attesa ma riceve solo un distratto sì certo continua perciò a camminare e a parlare immagino che allora soltanto ci sarà tranquillità allora solamente si potrà cominciare a lavorare a qualche cosa di buono quando saremo a posto in modo da non aver più preoccupazioni pausa quindi elen lo capisce pausa naturalmente abiteremo fuori da qualche parte e di nuovo contro la finestra le sottili labbra di bang non vogliono dare il via a una parola ma questa ricacciata dentro costringe il giovane ad alzarsi rimane un po perplesso prima di fare qualche passo verso l'amico proprio quando gli accanto holzer dice ascolta una malinconica canzone popolare slava sale ondeggiando come fumo su dal cortile è come se la canzone si alzasse in punta di piedi per guardare sopra i tetti e le torri non si sa dove bang solleva involontariamente il capo e chiude gli occhi sai che cos'è sorride holzer pausa poi bang sogna tra sé nostalgia holzer lo scuote quel rannocchietto di campagna laggiù lava i piatti la canta sempre sempre la stessa con questa stupida voce slavata tutti i pomeriggi verso le tre e mezzo guarda dimostra l'orologio puntuale no ogni ora del giorno è segnata così potrei tranquillamente impegnare il mio orologio suonatore d'organino concia broker vivendolo senza aiuola così si chiamano le mie ore e poi va a lavorare per di più c'è anche un vis a vis guarda carino vero herman elargisce alcuni baci e da una sua risata soddisfatta si può concludere che non sono caduti nella corte poi voltandosi improvvisamente per questo sposarsi al più presto bang fa un gesto come per interromperlo herman lo nota guarda l'amico un momento e tra di tasca una sigaretta ne vuoi bang grazie holzer accende con tutto comodo la sigaretta poi scuotendo vivamente in qua in là il fiammifero di cui si è servito come se volesse cancellare qualche cosa che è scritto nell'aria dice beh bang guarda fuori della finestra con i piccoli incisivi inferiori si tormenta i biondi baffetti pausa herman ha ripreso a camminare avanti e indietro e fuma con violenza incredibile e fuma con violenza incredibile a un tratto si ferma e la sua voce passa attraverso il denso fumo colori colori caro bang rosso verde quale ernst bang si avvicina e la sua mano sembra ridicolmente tenere sulle spalle e la sua mano sembra ridicolmente e la sua mano sembra ridicolmente tenera rotonde spalle dell'altro guardandosi le scarpe specialmente la sinistra dice sono convinto che non mi 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 fraintenderai herman holzer diventa inquieto ma c'è ragione di essere così solenni avanti parla santi dio non ho ucciso nessuno dunque bang alza gli occhi sinceramente afflitti oh allora ride holzer as bang torna alla finestra e di nuovo vi è spazio per il povero canto nostalgico in mezzo alla semplice triste melodia bang sparge le sue lente parole non mi rimproverare herman ma tu la rovini pausa herman holzer si toglie la sigaretta dalla bocca e la posa delicatamente sull'orlo del tavolo la sottile colonna di fumo sale dritta nel mezzo della stanza involontariamente entrambi seguono con lo sguardo quel lento placido movimento holzer prende in mano una sedia cerca di sollevarla ma improvvisamente la lascia ricadere e nel fracasso grida sei pazzo parliamo con calma te ne prego la voce di bang trema un poco ma holzer non si è ancora rimesso io io la rovino ripete con insistenza come se dovesse imparare questa parola a memoria e ricomincia ma io la ro herma prega l'altro io la ro e holzer ride a un tratto sfrenatamente lo debbono dire in tutta la casa infine smette di ridere e dice a fatica con l'ultimo respiro mi vuoi spiegare bang attendeva proprio questo comincia dolcemente come dopo una buona preparazione non si possono vedere i suoi occhi ricordi come hai conosciuto helen fu da me in un'allegra serata cioè allegra per voi per me e per helen fu un addio se tu vuoi una festa di addio qualche cosa di triste non lo notasti lo so infine non l'abbiamo più saputo nessuno dei due va così la vita corre rapida holzer fa un gesto di impazienza solo un istante herman è necessario parlare di quella sera quella sera bang si avvicina di qualche passo e cerca di fermare lo sguardo inquieto di holzer non mi hai mai domandato come io ed helen holzer lo scansa irritato ma questo non mi riguarda bang sorride può darsi vorrei tuttavia dirti holzer si getta sul sofà facendo gemere tutte le molle il rumore stridente rimane un poco nell'aria bang si sprofonda di nuovo nella contemplazione della scarpa sinistra e racconta quella sera dunque vi invitai tutti da me per festeggiare una specie di fidanzamento le molle del sofà stridono era apparso chiaro che ben diverso dal semplice cameratismo era il sentimento che mi legava ad helen dopo lunga riflessione decisi di sposarla mi resi conto delle difficoltà che la mia famiglia mi avrebbe opposto non dimenticai che con questo passo mettevo un ostacolo alla mia carriera notavo queste cose come se fossero di nessun impedimento ma all'ultimo momento una mezz'ora prima che tu entrassi una scossa sui cuscini del sofà bang alza gli occhi ma holzer siede tranquillissimo e bang conclude così si manifestò un impedimento cui non avevo pensato pausa beh e quando voi arrivaste già lo sapevo ed helen herman si alza a sedere e rivolge gli occhi in attesa verso il suo interlocutore ti ha respinto fa bang incerto come se volesse aggiungere qualche cosa e pensa forse si dovrebbe aprire un po' la finestra frattanto il crepuscolo irrompe sui due ora bang si accende una sigaretta e cammina in su e in giù ben diversamente da herman lento come aspettando dondolandosi si sente sollevato poiché dice in tono leggero settembre come annota presto di già è buio soltanto a fatica si può riconoscere holzer seduto sull'orlo del sofà il capochino tra le mani rimane immobile in tale posizione per questo le sue parole suonano così sorde nella domanda non capisco questo bang tutto ciò che mi importa che ne posso io anus lo ferma il silenzio si fa a un tratto pesante pesante holzer si strappa le mani dal viso e grida io la rovino perché calmo calmo lo tranquillizza bang ma holzer scatta in piedi fa improvvisamente come uno che in sogno era paralizzato tira le brazze si prova le giunture e vuole udire la propria voce perché guarda la herman prega bang anche lui un po' agitato com'è pallida ti si ammalerà vedrai tu la torturi allora holzer gli posa una mano sulla spalla e questa diventa sempre più pesante mentre egli profferisce tu non sai quello che dici bang io faccio per lei quanto posso credilo tutto è il possibile solo discorsi ne faccio pochi neppure lei ne vuole dunque che è la tormento bang non sa come ribattere e lentamente holzer riprende noi siamo compagni semplicemente come si deve se in questi ultimi tempi a volte io l'ho trascurata la colpa è stata del lavoro non appena essa avrà il suo bambino il suo lavoro anche lei mi trascurerà succede così pausa ernst bang ha lasciato spegnere la sigaretta si abbottone inquieto la marsina le sue mani sono bianchissime poi si sente di nuovo la voce di holzer essa diventa sempre più tranquilla e acquista sempre di più una serena superiorità d'altra parte non trovo che essa abbia un brutto aspetto tutte le ragazze sono così a quell'età migliorerà ne puoi essere certo pausa ma questo è il vostro modo di fare sensazioni ad ogni costo neante tranquillità grandi sentimenti da trapezio si attende sempre se l'attimo successivo non si rompono il collo conosco questo ma vi si ricalcia sempre dentro nella vostra smanceria le cose forse non sono così semplici bang parla quasi sibilando certo perché voi non le volete semplici vogliamo fabang questo vogliamo nel suo sguardo pare non fissi più nulla la volontà ci avrebbe certo resi felici holzer ora è quasi lieto accende la lampada e si inchina in avanti all'amico vostra signoria permetta il mio nome è holzer è un nome da prendersi alla lettera mio padre buonanima cioè era il vecchio holzer e la può sentire parlare di lui laggiù nel villaggio la maggior parte della gente ancora ricorda il contadino grande e grosso e anch'io ho qualche cosa del suo sangue spero qualche cosa di altrettanto dritto e solido ernst bang si sente disturbato dalla luce sfacciata e gialla della lampada devo andare holzer sorride come vuoi ma perché la lezione abbia una conclusione dimmi presto quello che secondo te dovrei fare in questo caso bang fa un gesto vago parla pensa che dietro a te è l'intera cultura è tolto di mano il cappello all'esitante in altro tono insomma ernst d'amico amico tu mi hai dato il tuo parere ed io per singolare che esso sia te ne sono grato senza dubbio hai portato con te anche un consiglio un toccasana per la malattia pericolosa no? già siete tutti quanti medici voi uomini moderni bang cerca di sorridere sono ansioso che devo fare ernst che devo dire bang ritorna molto grave indietreggia di qualche passo e risponde in fretta dire credo invece che affertuo sia soltanto ascoltare anche Herman non sorride più non ti capisco vedi Helen è una di quelle persone che debbono spiegarsi ad ogni costo pausa bene risponde Holzer brevemente e accompagna l'altro alla porta in quell'istante Helen entra urtando proprio contro i due oh fa Helen riconoscere bang e Holzer ride una sorpresa vero vecchi amici già balbetta Helen passando accanto a bang allora a Herman viene un'idea improvvisa tu hai ancora tempo no? tali parole suonano ben risolute involontariamente bang si ferma guarda Herman prendere la fanciulla per mano e condurla nel cerchio luminoso della lampada e trova questo di una brutalità inaudita poi lo sente dire pallida sei pallida Helen pausa può darsi che sia un effetto della lampada è una luce sfavorevole ma ti senti bene? pausa quel signore là veramente dice Helen fa un movimento come se volesse fuggire Ernst Bang si sente a un tratto del tutto estraneo spettatore vorrebbe sedere comodamente per non perdere nulla di quello che accadrà così quel signore dice che ti rovino pausa Ernst Bang pensa questa scena è troppo lenta più svelto prego pausa poi a voce alta è vero? pianto violento Ernst Bang fa due passi ha la sensazione che sia finita si può andare no non si può ma questo è un errore che accada ancora qualche cosa la risata enorme di Holzer e dopo? siete dei bambini dei veri bambini tutti e due tu Helen e quello là si ha ringraziato il Dio se ora siamo insieme altrimenti fareste qualche cosa di sentimentale ve lo leggo in faccia ma ora resteremo tutti a festeggiare qualche cosa si troverà pure qualche cosa pausa Helen si curva con gli occhi umidi su Herman e gli sussurra qualche cosa e gli non afferra subito poi ride noi due soli Dio ne guardi ragazzate al contrario quello che ho da dire deve ascoltarlo anche Ernst posa il cappello caro e come Bang non ne mostra nessuna voglia Holzer soggiunge te ne prego e poiché anche questo non giova si serve di un ultimo mezzo anche Helen lo vuole non è vero? e allora si fa silenzio intorno a un piccolo scolorito si Ernst Bang si avvicina ad Agio sembra incredibilmente stanco e Holzer pensa per tranquillità è una luce sfavorevole una lampada così poi fa sedere la fanciulla sulle sue ginocchia e scherza vediamo donnina mi vuoi bene? e ti rovino ti allora la piccola bionda fanciulla si aggrappa al suo collo con un trasporto che lo fa stupire un momento la sente piangere ma non possono essere state grandi lacrime perché quando solleva il tenero viso questo gli ispira una grande felicità una felicità mai provata Bang è accanto alla finestra e conta i neri comignoli vuole estranearsi ad ogni costo tuttavia sente parola per parola vedrai che la spunteremo bambina se oggi viene la notizia dagli Holmes possiamo sposare subito dopo la laurea pausa vuoi? un sorriso beato così festeggeremo l'avvenire pausa sei ancora là Bang? e senza attendere disposta ma anche un'altra cosa festeggeremo a proposito la tua cultura Bang siamo tra esseri moderni tra individui senza pregiudizi no? e con questo decretiamo non esiste nessun passato il passato noi lo neghiamo semplicemente Ernst Bang si è avvicinato svelto come per salvare la situazione e gli sente ancora chi parla del passato mente siamo intesi? Helen è pallidissima ma Herman non l'ha osservato qualcuno proprio in questo momento ha suonato ed egli si affretta ad aprire ci potrebbero essere notizie degli Holmes Helen tuttavia lo raggiunge vicino alla porta e sue labbra bruciano è un ultimo tentativo ma Holzer si chiude le orecchie e ride essa allora lo lascia e ritorna ad agio verso la luce calmissima Bang è dall'altro lato del tavolo e la fiamma sibila in mezzo a loro stranamente forte a un tratto Helen lo guarda con gli occhi disperatamente tristi Hans Bang alza appena le spalle un moto appena percettibile e questo è tutto bene iscriviti è tutto una lage